3 2 1 siamo live buongiorno buongiorno a tutti allora mentre aspetto che voi vi colleghiate insomma per il nostro solito appuntamento del martedì pomeriggio alle 3 e mezza fatemi controllare se tutto funziona bene soprattutto se funziona bene la nuova grafica della mia live fatemi un po vedere come va sembrerebbe che la nuova grafica funzioni correttamente ecco tolgo il suono magari perché sennò mi sento ok forse potrei anche spostare i loghi un po più in basso devo fare delle prove mentre aspetto che voi che voi vi colleghiate guardo questo nuovo kit ho scoperto che c'è questo kit di personalizzazione delle grafiche su facebook ero così nabbo che neanche non lo sapevo quindi ho aggiunto e dovreste vedere qui in basso il mio logo di qua il seguimi su con tutte le indicazioni dei vari social e poi ho aggiunto in alto qui vicino alla mia testa la mia firma perché sembrava sembrava carino sembrava personale non è male penso che lì abbasserò un po di più per la prossima per la prossima live perché sono un po invasivi un po in mezzo allo schermo forse forse neanche tanto forse forse li lascio così vediamo va bene comunque l'importante era che tutto funzionasse fatemi sapere naturalmente se funziona la live se mi sentite oggi abbiamo un argomento veramente molto molto interessante di cui parlare quindi collegatevi come faccio a perfetto molto bene allora di che cosa parliamo oggi naturalmente ha anche qualche informazione di servizio sto per fare un upgrade delle mie della mia postazione ho ordinato un nuovo microfono più professionale insomma vedremo faremo dei belli upgrade di qualità quindi spero che siate contenti di questo di che cosa parliamo oggi oggi parliamo delle difficoltà psicologiche degli studenti ma ne parliamo in modo particolare e cioè ne parliamo guidati da qualcuno che ne sa oggi vi parlo in particolare era da un po che volevo fare questa live quindi di un libro un libro che ho letto che ho studiato nelle ultime settimane che mi ha davvero molto colpito e mi è molto piaciuto che è lo studente strategico di Alessandro Bartoletti ma prima di parlarvi di quello che è contenuto in questo libro e quindi di quali siano le eventuali difficoltà degli studenti bla 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 ci tengo a fare una premessa perché il buon Bartoletti appunto lo scrittore di questo libro che viene dalla scuola di Giorgio Nardone della psicoterapia breve la psicoterapia come dire strategica lui fa un discorso nel libro che io trovo molto molto sensato l'ho visto anche in varie interviste ripetere questa cosa con cui mi trovo perfettamente d'accordo i problemi psicologici si lasciano nelle mani degli specialisti cioè degli psicologi bisogna chiarire questa cosa quindi la live di oggi non sono io che cerco di darvi dei consigli psicologici tutt'altro sono io che vi racconto che cosa ho imparato da questo libro vedo qualche spunto e soprattutto vi consiglio di comprare questo libro di studiarvelo e quali temi potete approfondire ma in generale quello che dovete assolutamente diffondere capire eccetera è che viviamo in un mondo in cui tutti quanti si sentono nel diritto di pur senza qualifiche pur senza comprensione più senza capacità eccetera si sentono il diritto di parlare di cose psicologiche ora quando si parla di motivazione di ansia di tutte queste cose qui sono dei temi veramente molto dedicati delicati per cui le persone hanno delle delle reali difficoltà nella loro vita e quindi una cosa che rende chiarissimo per esempio bartoletti proprio in questo libro è che questo non è un libro di auto aiuto è un libro di divulgazione per cui vi dà degli spunti spunti che poi devono essere però approfonditi nel caso voi abbiate dei problemi di studio o di problemi psicologici appunto legati sulla diretta giusta al momento giusto ecco benissimo dicevo avete abbiate dei problemi psicologici legati allo studio li dovete approfondire con degli specialisti quindi vorrei spezzare una lancia la proverbiale lancia a favore degli psicoterapeuti ma quelli veri cioè leggiamo un secondo me lo sono aperto qui il curriculum di questo dottore alessandro bartoletti allora laureato in psicologia generale e sperimentale specializzato in psicoterapia breve strategica presso il centro di terapia strategica di giorgio nardone eccetera perfezionato in neurobiologia presso la scuola normale superiore fa lo psicoterapeuta da decine di anni ruolo istituzionale presso l'ordine degli psicologi del lazio presso l'empaplente nazionale previdenza e assistenza degli psicologi autore di vari libri cioè non stiamo parlando di gente che si improvvisa questo è molto importante quando avete quindi dei problemi di salute psicologica e tutti ce li abbiamo perché chi dice di non avere problemi di salute psicologica sta mentendo nello studio come in qualsiasi altra cosa valutate attentamente di avvalervi di professionisti professionisti cioè persone che fanno questo di mestiere che hanno studiato queste cose che hanno una qualifica eccetera quindi sapete io non sono un grande appassionato ne abbiamo parlato varie volte del concetto dei motivatori dei coach del life coach è una cosa che mi puzza ce ne sono sicuramente di bravi adesso non non voglio fare di tutto un erbo un fascio ma in generale è una professione che non amo particolarmente perché credo che quando si parla di cose delicate come sono le emozioni delle persone le ansie delle persone le difficoltà delle persone bisogna sapere di cosa si sta parlando ora io non 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 escludo che ci sia della gente non laureata competente tuttavia vi invito a rivolgervi a degli specialisti e degli psicologi veri questo molto importante e tra l'altro voglio spostare anche un'altra probabilità perché viviamo in italia ma forse anche nel resto del mondo ancora in un mondo in cui c'è un po questo pregiudizio sulla psicoterapia sugli psicologi sugli psichiatri eccetera cioè che dallo psicologo ci vanno i matti questa è una cosa che dovete assolutamente togliervi dalla testa dallo psicologo ci va chiunque voglia curarsi della propria salute psicologica io non faccio mistero di essere stato e tuttora di frequentare insomma terapia per vari problemi ma non perché sono matto perché ho chissà quali problemi nella vita che ho bisogno dello psicologo ma perché in passato la psicoterapia mi ha aiutato fatta da persone competenti da persone certificate da persone quindi sono un grande fautore della psicoterapia ne ho fatto uso e mi ha veramente cambiato la vita in qualche modo e quindi la consiglio quindi se avete dei problemi cioè se voi in questo canale parlo specialmente parlo di tante cose no di cultura di ragionamento eccetera ma il tema principale è quello dell'apprendimento dello studio la prima cosa da dire quindi è che se voi avete delle preoccupazioni delle ansie delle difficoltà psicologiche nello studio veramente gravi cioè del tipo che al solo pensiero di mettervi a studiare vi viene la tachicardia e la sudorazione oggi sono più incavolato no sì andrea sono più incavolato perché detesto chi fa l'abuso di professione e vedevo proprio bartoletti in un'intervista tempo fa dire insomma è lo psicologo che deve parlare dei problemi psicologici e quindi rivolgetevi a chissà quello che dice quindi se avete delle difficoltà grosse io per esempio ho avuto persone che mi hanno scritto ma io non riesco ad approcciarmi all'esame perché ho un'ansia terribile e non li ho presi tra i miei clienti perché perché non è giusto vendere cose che non ti appartengono io per esempio sono uno specialista del metodo di studio è vero non sono psicologo sono linguista ma ho approfondito moltissimo la psicologia cognitiva tutte quelle cose lì qualcuno potrebbe anche dire che dovrei essere psicologo e anche di questo abbiamo già parlato in una live precedente ma in generale io non mi occupo di cose delicate come le ansie le problematiche psicologiche eccetera quindi fatto questo doveroso cappello rivolgetevi gli specialisti ciao Gianluca andate dallo psicologo andateci a questo punto parliamo di lo studente strategico questo bellissimo libro che mi sono mangiato ma che prima di fare la live ho voluto approfondire bene perché l'ho trovato veramente brillante veramente interessante scritto benissimo e davvero mi ha spinto mi ha spinto a farmi a porre delle riflessioni mi sono reso conto che alcune cose che io stesso ho fatto e facevo nel corso del tempo funzionavano e capire il perché funzionavano e altre invece magari ottenevano dei risultati peggiori e non lo sapevo perché sapete quando si lavora con le persone in qualche modo la psicologia rientra anche se io mi tengo lontanissimo dall'aspetto psicologico perché appunto non credo di essere competente nell'affrontarlo tuttavia quando parli con una persona è inevitabile che tu metta anche inconsciamente in atto delle strategie ecco quindi parliamo mi sono segnato una serie di punti sul libro naturalmente non ve lo spoilererò tutto e certamente non basterà questa live per vederlo tutto anche perché alcuni temi magari si intersecavano meno con la mia professione con quello che faccio quindi li ho approfonditi di meno vi consiglio quindi di andare sei un po psicologo anche tu dai no no valentina io sono un linguista e mi interesso di psicologia cognitiva che è una cosa molto diversa cioè a me interessa lo studio del funzionamento della mente non faccio nessun tipo di psicoterapia non mi occupo delle emozioni delle persone delle problematiche psicologiche delle persone nulla di tutto questo se poi alcune cose che faccio indirettamente possono aiutare qualcuno sul piano psicologico nel sono contento ma non è né il mio obiettivo né il centro di quello che faccio né quello che io vendo io vendo sostanzialmente una preparazione una competenza tecnica e dimostrabile sul metodo di studio che io la mia professione insegno alla gente a studiare questo è quello che io faccio non quindi non sono un terapeuta non sono psicologo e niente comunque mi sono segnato un po di cose un bel po di cose quindi oggi ne abbiamo di cui parlare proprio su questo meraviglioso libro allora innanzitutto parte nella prefazione bartoletti sul sul fatto sul sul definire come la letteratura scientifica sia quella psicologica sia anche delle neuroscienze eccetera riguardo all'apprendimento si concentri di più su chi ha degli handicap o dei deficit cognitivi quindi pensate a tutti i disturbi dell'apprendimento eccetera piuttosto che sul sulle problematiche tipiche degli studenti sia in adolescenza che in età adulta eccetera sui blocchi sulla difficoltà eccetera tipiche degli studenti perché vengono spesso ricondotte queste problematiche a temi di tipo motivazionale cioè non ha voglia di studiare è bravo ma non si impegna l'avrete sentito dire su voi stessi sui vostri figli sui vostri amici infinite volte martoletti qui un po dice vabbè c'è qualcosa di più cioè le difficoltà psicologiche sono vere e proprie difficoltà tipiche dello studente di tutte le età e vanno affrontate per quello che sono problematiche psicologiche reali e e quindi sostanzialmente anche un po l'idea l'idea di fondo di di questo libro è quello di dare a cesare quel che di cesare no di riconoscere le difficoltà psicologiche per quello che sono e uscire un po da quel pregiudizio da quella idea classica che si applica allo studio del della frusta cioè che la soluzione per risolvere il problema dello studio è sbattere la testa più potente che puoi sul libro finché non impari qualche cosa ecco questo approccio il bartoletti insomma non lo non lo condivide in fondo e e poi fa tutta una giusta spiegazione su quale sia la come dire l'orizzonte l'orizzonte programmatico tipico della terapia breve e quindi del concetto dell'approccio strategico come lo chiama lui come si chiama appunto ai problemi di studio psicologici che funzionano così cioè l'approccio che prende bartoletti non è quello classico che uno si immagina dello psicoterapeuta che va a cercare le radici profonde del del problema cioè l'abuso della cosa oppure quell'evento traumatico del passato no la terapia breve per come la intende giorgio nardone e bartoletti si concentra sul qui e ora e quindi cerca di capire in particolare quali sono quelle prima di tutto qual è il problema quali sono le problematiche adesso poi ne vedremo alcune che vengono elencate e raccontate da dal dottor bartoletti ma una volta che si è stabilito quale sia la problematica di studio l'idea che promuove bartoletti è quella di dire quali sono le strategie che mette in atto lo studente o l'insegnante o la sua famiglia eccetera strategie che invece di migliorare il problema invece di risolvere il problema lo stanno o acuendo o lo stanno continuando ad alimentare quindi l'approccio è un approccio molto pragmatico cioè capiamo quali sono le strategie che non funzionano proviamo a cambiarle e vedere se il risultato cambia un approccio quindi che si fa meno di domandarsi le radici profonde della questione ma va più sul concreto sul come facciamo adesso a risolvere questo problema quindi che cosa scrive esattamente capire cosa si insiste a fare per risolvere il problema ma senza ottenere risultati cioè queste tentate soluzioni questa persistenza nel fare sempre le stesse cose che però non porta un buon risultato perché se portasse un buon risultato per sua natura se tu applichi quella strategia migliori se non migliori vuol dire che la strategia che stai adottando non funziona nel migliore dei casi nel peggiore sta contribuendo al tuo problema quindi questo è l'approccio che descrive bartoletti naturalmente molto più approfondito nell'introduzione del libro chiamate il dottor nosaradan dice andrea visconti allora dovete sapere qui faccio una qui faccio una piccola parentesi sono appassionatissimo del programma vite al limite col dottor nosaradan dove c'è un mega ciccioni che devono dimagrire e lo trovo super motivante soprattutto quando ce la fanno mi piace un casino ma chiediamo la parentesi quindi dottor nosaradan è il motivo per cui quando quando penso di mangiare un gelato mi vengono i sensi di colpa bene ha contribuito però allo sviluppo di addominali scolpitissimi che possiedo allora dicevo quindi tra l'altro poi parla quindi proprio l'approccio quello lo dice qui rimane focalizzati sul presente e l'approccio breve strategico e quindi scrive bartoletti una terapia del problem solving sul qui e ora cerchiamo di capire qual è il problema perché si è originato ma perché si sia sviluppato non tanto le radici profonde come si sia strutturato chi è coinvolto in questa difficoltà cioè se è una difficoltà solo dello studente oppure c'è anche un professore c'è anche una questione della famiglia molto spesso dove si manifesta in che modo si autoalimenta il funzionamento per cercare di come dire affrontarlo naturalmente ci sono diversi approcci e un approccio che io non tratterò particolarmente in questa live perché è una cosa che interessa di meno è quello sui ragazzini più piccoli per esempio quelli delle scuole medie scuole elementari dove si predilige scrive bartoletti una terapia indiretta cioè si lavora con gli insegnanti ma soprattutto con la famiglia mentre invece con gli studenti più diventano grandi più si va verso l'età adulta più si lavora con lo studente in modo diretto ciao caterina nel frattempo ok quindi quindi va bene insomma ci sono tutte tutte insomma quindi sono la prima cosa che fa nel libro bartoletti è giustificare e spiegare l'approccio teorico dietro alla terapia breve strategica quindi una cosa molto molto interessante si rifà tra l'altro a i padri fondatori del paradigma di intervento strategico per esempio milton erickson che è un appassionato comunque di psicologia sicuramente ha incontrato il nome di milton erickson un nome tra l'altro molto spesso abusato perché tanti lo citano sapendo cosa dicono come per esempio bartoletti perché l'hanno studiato perché sono dei veri psicologi tanti altri tirano in ballo erickson perché ha un nome che fa come dire che piace per qualunque bufala pseudo pseudo psicologica e va bene non importa comunque va bene tra l'altro fa anche una tristissima comparazione con i dati statistici mostrando come in italia il livello degli studenti sia molto molto basso si attesta sui più bassi d'europa chiaramente rispetto ai paesi magari del terzo mondo non siamo messi così male ciao francois ma in generale non ci siamo e identifica in particolare due problematiche riguardo soprattutto ai ragazzi delle scuole superiori lo vedo tantissimo quando lavoro con i ragazzi delle scuole superiori due tendenze che le famiglie la scuola in qualche modo hanno portato avanti hanno reso un cancro nel nostro sistema scolastico che sono da un lato il permissivismo e dall'altro il protezionismo cosa significa significa l'idea che trattiamo i ragazzi come se fossero degli adulti e gli diamo tutti i diritti del mondo che facciano come gli pare che si gestiscano eccetera eccetera dall'altra parte il protezionismo cioè e chi fa l'insegnante insomma questa cosa la sa i nostri il figlio ha sempre ragione il figlio è sempre colpa dell'insegnante il nostro figlio è sempre il più bravo il più bello il più giusto rinchi poi ti rispondo eccetera eccetera quindi assolutamente l'idea è quella di creare una campana di vetro intorno ai nostri figli che non è una buona idea e vabbè insomma questa è tutta una parte parla tra l'altro del fatto che queste tutte queste due forze da un lato la da un lato l'iperprotezionismo dall'altro il premissivismo assoluto portano nel tempo a una perda di autorivolezza della classe docente e questo lo notano lo notano tutti gli insegnanti cioè non è un modo di dire dieci anni fa la chiacchiera in classe c'era perché c'è sempre stata anche 50 anni fa più raramente però si lanciavano i banchi oppure c'era la gente che filmava mentre scorreggia sul professore mentre queste cose oggi sono abbastanza all'ordine del giorno ecco questa è una è una cosa sicuramente e vabbè insomma quindi questo problema tra l'altro il problema della copiatura a scuola affronta molto molto interessante insomma vabbè o arriviamo finalmente questa era un po l'introduzione il cappello teorico su cui in cui si muove il Bartoletti naturalmente se pensate che io lo abbia affrontato e abbia appena affrontato tipo 30 pagine di questo libro in due parole con grande superficialità è programmatico cioè non volevo spiegarvelo nel dettaglio andatevelo a comprare questo libro volevo solo darvi qualche spunto adesso però andiamo a vedere alcuni dei problemi tipici degli studenti e questi a me capitano costantemente perché io non lavoro come dicevo prima lo ribadisco perché poi se no è non lavoro con l'aspetto psicologico tuttavia lavoro con gli studenti per cui mi capita mancanza di una giusta mentalità è purtroppo sì franzo la temo mi capitano studenti che hanno problematiche quando sono problematiche sul metodo di studio intervengo molto volentieri quando sono problematiche di tipo psicologico il mio consiglio è sempre quello rivolgiti a uno specialista magari io posso dare dei consigli di massima ma non mi prendo non mi prendo la responsabilità di dare consigli su cose che non padroneggio e quindi non ha senso allora e qui elenca tutta una serie di stili con cui ci si blocca nello studio allora il primo è molto interessante perché io mi ci mi ci riconoscevo bene lo studente incatenato lo chiama Bartoletti è un'idea praticamente un'idea che si si origina o può originarsi dal considerare lo studio come un obbligo no come un devi assolutamente studiare e si traduce in un immobilismo lo chiama immobilismo depressivo cioè non appena anche solo c'è l'idea di doversi mettere a studiare lo studente si blocca si blocca completamente attenzione piccola parentesi quelli di cui parla Bartoletti in questo libro sono problemi psicologici se siete soltanto un po' un po' procrastinate un po' rimandate le cose quello è normale un bel calcio nel culo e via se invece è un problema serio psicologico vero allora tutto un altro discorso qui parliamo di cose serie quindi c'è questo questa idea dell'obbligo il senso dell'obbligo spesso verso la propria famiglia naturalmente che ci spinge ad andare all'università ti spinge ad andare bene a scuola eccetera ma questa spinta come dire in qualche modo porta a usare come unico modello quello dell'imposizione quello del dovere devo studiare devo concentrarmi e più mi concentro e più mi sforzo e meno paradossalmente ci riesco e mi blocco ok se vedete ogni tanto da un occhio al libro è perché non voglio dire stronzate quindi perdonatemi se non vi guardo sempre negli occhi ma ecco quindi questo è il primo tipo di studente questo tipo di studio rende impossibile scrive bartoletti studiare in modo spontaneo perché perché diventa una costruzione e tantissimi studenti sanno che cosa vuol dire sentirsi incatenati non sentire alcuna possibilità di uscita dallo studio studio è una prigione questo è un problema che è veramente grave e che io stesso ho provato sulla mia pelle sono sempre stato molto molto bravo con gli esami cioè ho sempre avuto una maglia altissima ho sempre avuto nessun problema studiare anche perché in quegli anni mi appassionavano i metodi di studio di apprendimento eccetera ma paradossalmente studiavo tantissimo sempre studiato tantissimo ma quando si trattava di dover studiare le materie ed esami bloccavo perché appunto lo vedevo come un'imposizione non volevo cambiare percorso eccetera eccetera quindi so di che cosa si parla poi alla fine ci sono riuscito con molta fatica evidentemente non erano problemi così così pressanti c'è chi invece ne soffre in maniera veramente più drammatica il secondo tipo di blocco dello studente antonio adesso ti leggo finisco questo discorso poi ti leggo è quello del perfezionismo lo studente perfezionista lo studente perfezionista è quello talmente precisino del cacchio che alla fine non fa un cavolo studia infinite ore è maniacale nel suo studio è ossessivo nel suo studio meticoloso in modo smodato e ansiogeno cioè deve sottolineare ogni piccolo pezzo grande così del libro deve sapere ogni singola riga a memoria deve essere preparato al cento per cento ogni minuto libro della sua giornata è dedicato a studiare eccetera eccetera questo tipo di cosa porta al nervosismo e all'isteria cioè a crisi crisi esistenziali somatizzazioni bla 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 quindi il fatto di essere eccessivamente è giusto essere perfezionisti il fatto di esagerare in questo in questo controllo asfissiante non è altro che in realtà un modo per nascondere la propria paura di sbagliare ci si ossessiona coi dettagli perché si ha un grande paura una grande paura dentro di sbagliare l'esame di andare male di non essere bravi quanto si crede bla 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 quindi il secondo tipo di problema che di cui parla martoletti quello studente perfezionista interessante tra l'altro il punto di vista in cui dice spesso soprattutto quando sono giovani queste crisi isteriche o di nervosismo o di somatizzazioni quindi il mal di testa il mal di pancia tutte quelle cose lì portano a un circolo vizioso perché giustamente la famiglia si preoccupa ti porta dal medico il medico non ti trova niente perché il tuo è un disturbo di origine psicologica e psicosomatica e non insomma per colpo di una malattia altra piccola parentesi quando si dice che un disturbo è psicologico psicosomatico per qualche motivo che per me è sconosciuto la gente tende a vederla come una sotto a ma è solo psicologico e ma un disturbo psicologico un disturbo vero quindi non è che perché è psicologico vale di meno è uno sta male uguale cioè il mal di testa psicologico non è migliore del mal di testa fisico sempre mal di testa è l'origine che è differente ma vabbè quindi la famiglia si preoccupa ti porta dal medico il medico non trova niente allora ti preoccupi ancora di più allora e questo porta un peggioramento costante vediamo cosa scrive antonio credo che un problema degli studenti e non vedere un obiettivo allo studio non riescono a dare una passione allo studio sì questo sicuramente è un buon è un buon è una buona idea l'uso degli obiettivi sicuramente ottimo e lo vediamo nel corso di questa live parleremo anche di quello quindi va bene poi il numero 3 lo studente terrorizzato questo mi piace un casino paura 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 panico da esame ho paura in particolare magari per certi tipi di esame spesso viene fuori questa cosa qui per gli esami di tipo orale per esempio ho paura di parlare in pubblico adesso arrivo andrea eccetera eccetera a volte l'esame orale appunto è più è più terrorizzante c'è l'angoscia c'è di nuovo il mal di pancia c'è di nuovo tutte quelle cose lì ho paura però mi blocco eccetera quindi questo è questa cosa lì io studio dice andrea il problema è che inizio con cose non relative all'esame tipo trattato di anatomia why ma la cosa che ti dirò te la sto dicendo da amico o tizio a caso sul web non prenderla come una cosa seria non sono uno psicologo non ne so assolutamente niente dei problemi psicologici non prendere quello che dico per buono detto questo mi sembra che che il tuo problema sia un problema un po di perfezionismo di voler andare a cercare il pelo dell'uovo e allora parto dall'approfondimento di cose non proprio relative ma non lo so non lo so quale sia il tuo problema onestamente io mi limito a in questo in questo momento in questa live divulgare delle cose interessanti che ho letto su questo su questo libro non mi permetto di metterci del mio perché non ho nulla da dare sulla psicoterapia non sono uno psicologo quindi va bene comunque la terrorizzante l'esame orale di quello scritto questo normale poi c'è lo studente presunto incapace bellissimo questo lo studente presunto incapace è quello che per una serie di motivi di varia natura nel corso del tempo ha fallito ha fallito più volte ha fallito gli esami ha fallito la preparazione non è andato bene a scuola e si autoconvince che queste continui fallimenti dolorosi pesanti eccetera significhino che lui è un incapace che lui è uno stupido che lui è non portato per lo studio che lui è inadatto inferiore eccetera questo porta magari anche a volte alla rabbia eccetera l'effetto ultimo di questo genere di cosa è l'abbandono degli studi perché uno dice gli altri sono tutti più bravi di me allora smetto di studiare questo è un esito molto molto triste ha naturalmente poi ci saranno anche dei consigli questa stai elencando un po i vari problemi così ognuno di noi si riconosce eccetera poi c'è lo scritto lo studente chimera è l'ultimo e quindi abbiamo visto i vari tipi di studente problematico sono generalmente lo studente incatenato quello bloccato che non riesce proprio a studiare lo studente perfezionista quello che si perde mille cose che non c'entrano niente e diventa maniacale lo studente terrorizzato che ha una paura boia dell'esame e infine lo studente che si sente un incapace questi sono i quattro tipi principali che elenca bartoletti poi c'è lo studente chimera che in realtà è quello più diffuso che è quello che unisce diversi sintomi di questi quattro stili quindi un po è terrorizzato e un po è perfezionista un po è bloccato insomma c'è un mix di varie cose commissioni di scenari diversi scrive bartoletti che si influenzano a vicenda questo sicuramente questo tra l'altro ecco questo è uno spunto che mi ha veramente colpito questo porta una cosa su cui non avevo mai ragionato alla questione della confusione se ci sono tanti sintomi e tante ragioni mischiate insieme è difficile capire quale sia il proprio problema il primo passo lo sapete per risolvere qualunque problema in qualunque ambito da quello del lavoro a quello dello studio quelli psicologici eccetera è riconoscere che problema sia se io ho mille sintomi diversi in mille situazioni diverse e mille origini diversi di questi sintomi non riesco mai a capire qual è il mio problema quello che spiega bartoletti è che lo psicologo competente ha come primo compito quello di individuare qual è la problematica principale perché ce n'è sempre una che è prevalente sulle altre che fa da sfondo alle altre che è quella più importante da risolvere a volte risolvendo quella le altre si risolveranno a cascata altre volte ci sarà da fare un lavoro differente ma è una questione di come dire di ordine richi scrive è possibile che uno studente è capace ma lo stesso tempo crede di non essere capace assolutamente sì ricardo è assolutamente possibile anzi molto spesso l'incapacità è qui dentro cioè l'incapacità è le campane suonano l'incapacità è qualcosa di percepito non è detto che sia qualcosa di reale poi certo c'è chi ha delle difficoltà tu parlavi prima di dislessia anche lì non sono un rispetto di distribuire l'apprendimento nonostante abbia studiato neuropsicologia all'università però non sono uno specialista di quella roba lì ma ci sono possono esserci delle difficoltà oggettive tuttavia molto spesso sono più ansie che non altro franco a scrive mi permetto di vediamo se riesco a leggere tutto ecco non mi fa vedere tutto il tuo messaggio aspetta vediamo se sotto la mia live mi interessa leggere che cosa mi dite commenti vediamo eccolo qui non fa leggere tutto dice francois scrive mi permetto di parlare brevemente della mia esperienza sebbene sia solo alla fine del primo anno di economia ho fatto molta fatica per quanto riguarda il metodo tanto è vero che io che non studiavo tanto soprattutto i dettagli ma impostava un discorso generico va bene quindi superficiale un pochino sono trovato a guardare i dettagli ho somatizzato molto il dover stare molte ore sui rivi sebbene oggi sia a conoscenza delle tecniche di memoria del palazzo della memoria sono scettico ho ridotto le ore di studio cercando una via di mezzo soprattutto somatizzando molto l'alternativa è distrarre la mente con lo sport il discorso che stai trattando di un'ampiezza allucinante assolutamente talmente ampio che non me ne prendo la responsabilità ti faccio una piccola pello perché tra quello che in quello che hai scritto che è molto psicologico c'è un appunto che tu metti lì metodologico e lì sì che sono competente quindi mi permetto tecniche di memoria palazzo della memoria ne parla anche il bartoletti poi lo vediamo sono utilissime vanno conosciute vanno imparate tuttavia come ripeto sempre le tecniche di memoria sono una delle frecce nell'arco di uno studente capace non sono un metodo di per sé non bastano le tecniche di memoria per dire di saper studiare le tecniche di memoria sono una parte del metodo di studio ce ne sono tante altre vai a vederti tutti i video sul mio canale e li trovi poi scrive sicuramente l'ansia il carattere fa così come mentalità approccio io stesso sebbene abbia sebbene per altri motivi abbia parlato con uno psicologo comunque la situazione cambia certo comunque il consiglio è sempre quello se le vostre difficoltà di studio poi sono davvero molto pressanti a livello psicologico rivolgetevi a qualcuno di bravo scoprirete che la terapia è vero è una cosa costosa però per esempio un buon alternativo una buona alternativa potrebbe essere questo tipo di terapia qui la strategia breve trovate psicoterapeuti specializzati in questa roba qui o cercate il centro di di nardone giorgio nardone o lo stesso alessandro bartoletti perché no sicuramente lui ne sa di più visto che ha scritto questo libro e quindi dicevamo c'è sempre un problema trainante quindi lo studente chimera è quello che unisce diversi tipi di problematiche ma ce n'è sempre una di fondo più importante delle altre e quindi il bravo il bravo psicologo è quello che individua per primo qual è la problematica fondamentale da risolvere poi anche tutte le altre una cosa una cosa meravigliosa dell'approccio dell'approccio strategico è anche una vaschetta di gelato anche quello ci sta il ribaltare cioè che cosa dice prova a ribaltare bartoletti il concetto invece di cercare di capire come risolvere i problemi psicologici ribaltiamolo cerchiamo di capire quali sono le strategie migliori per peggiorare i nostri problemi psicologici con lo studio al massimo livello cioè li porta all'assurdo no li esaspera attraverso delle strategie fallimentari volutamente fallimentari che ci fanno capire qualcosa di meglio di noi stessi e di come funzioniamo quindi immaginiamo scrive per assurdo che uno studente voglia deliberatamente peggiorare le proprie difficoltà scolastiche che sia in altri termini impegnato nel tentativo di fallire volontariamente nello studio questo è bellissimo quindi l'idea è che cosa succederebbe se uno studente volesse fallire fallire nello studio bartoletti qui in questo libro insomma si propone questo tipo d'approccio che ribalta per assurdo la situazione per ottenerne un risultato ed elenca quindi otto stratagemmi fallimentari dello studente più uno perché c'è il nono e va bene quindi l'idea è come facciamo per peggiorare i nostri problemi partiamo dal dal primo il primo stratagemma che elenca per fallire nello studio malamente adesso arrivo peppe poi ti rispondo l'iperanalisticità cioè invece di concentrarsi sulle cose più importanti dello studio uno degli errori fondamentali che facciamo per peggiorarlo a tutti i costi è quello di perdersi nei dettagli quindi andiamo nella minuzia più sottile più difficile eccetera nel perfezionismo fallimentare cioè volete peggiorare nello studio invece di occuparvi di imparare il metodo nel modo corretto andate a studiarvi a memoria le note a piedi pagina del capitolo 70 del libro che nessuno vi chiederà mai soffermatevi su quelle quindi siate perfezionisti fino allo stremo con cose inutili ecco questo è un ottimo modo per fallire nello studio quindi scrive un'interessante variazione sul tema dell'iperanalisticità è costituita dagli studenti che inseguono lo scibile assoluto cioè quelli che pretendono di sapere tutto 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 non esiste nessuno che affronta l'esame col 100 per cento di preparazione 100 per cento non esiste va bene scrive peppe alessandro tu come approcciavi allo studio da studente quale metodo del metodo di studio ne ho parlato in tante altre live ne parlo sempre oggi parliamo di problemi psicologici in particolare seguiamo la guida di alessandro bartoletti in questo bellissimo libro in generale in generale io ho sviluppato nel corso degli anni un metodo di studio quindi ho sfruttato gli anni della mia università per perfezionare un metodo di studio quindi le ho provate tutte tutte le tecniche anche le più stupide le più pseudoscientifiche le più fallimentari io le ho sperimentate tutte ho guardato che cosa funzionava che cosa no ho studiato sui testi mi sono comprato tutti i libri sull'argomento che potevo trovare su amazon e non solo e pian piano ho costruito il mio metodo di studio se lo vuoi trovare lo trovi in tutti i miei video lo trovi ho fatto anche diverse live proprio su quell'argomento lì non te lo spiego oggi non perché non voglia voglia fare il bastardo ma perché stiamo parlando di altro ecco secondo strategia ricchi chiede troppe informazioni sì troppe informazioni cioè non bisogna non bisogna quindi lo stratagemma fallimentare dell'iperanaliticità parte dal presupposto che ti riempi la testa di cose che in realtà sono dettagli di una precisione di una di una minuziosità esagerata che non portano a nessun risultato ricordatevi in questo caso il principio di pareto 80 20 dovete individuare quel 20 per cento di informazioni che produce l'80 per cento del risultato vabbè secondo stratagemma fallimentare il dovere è sapere l'intensificazione dello sforzo cioè il uno dei modi migliori per fallire è quello di fissarsi sul concetto di devo studiare devo intensificare lo sforzo devo sbattermi di più devo studiare più ore e devo ricordare tutto devo spremermi come un melograno non so neanche se si spremano i melograni ma va bene non ho mai mangiato uno in vita mia ma comunque autocontrollo esagerato questo porta alla paralisi naturalmente e al procedere in realtà più lentamente ed emergono tra l'altro le questioni della procrastinazione quindi anche questo è una cosa una lotta con la memoria ed ecco che è il libro sottolineato riga per riga quanti studenti ho visto in vita mia che hanno il libro con più parole sottolineate di quante non ne hanno senza la sottolineatura addirittura sottolineati con più colori in più passaggi ecco esagerato si si spremono sono buonissimi dice samuela molto bene allora ho fatto la giusta la giusta metafora e scrive bartoletti a certo punto il bello di questo libro è che ogni tanto il bartoletti se ne esce con una frase che è talmente fantastica che dici porca pittana ho speso sti 14 euro per sto libro e ne valeva davvero la pena a certo punto dal nulla bartoletti scrive in realtà l'obiettivo dello studio è l'apprendimento e non la memoria solo focalizzandosi sulla comprensione sia in grado di ricordare perfetto perfetto riassume quello che io cerco nel mio metodo di studio di dire da anni cioè che la memoria è secondaria alla comprensione prima si capisce prima si ragiona poi si memorizza e anzi si memorizza in virtù del fatto che si è capito ecco quindi lo scopo che voi dovete avere quando studiate e qui si parla di metodo e quindi ci metto il becco io lo scopo che dovete avere non è quello di ricordare le informazioni e prima di tutto di capirle poi eventualmente ricordarle ma prima di tutto lo dovete capire benissimo sapere come sfida è il terzo stratagemma fallimentare porsi obiettivi che non hanno nulla a che fare esagerati esagerati fallisco un esame allora nella prossima sessione devo fare 7 un obiettivo assurdo impossibile da raggiungere che non farà altro che produrre frustrazione perché non ci riuscirete e finirà male ecco quindi porsi delle sfide troppo difficili che non con delle aspettative irrealistiche no che non portano a nulla di buono ecco quarto stratagemma lo studio disorganizzato qui mamma mia qui non è solo un problema psicologico proprio un problema di metodo che io conosco molto bene cioè il fatto di non avere la minima idea di che cosa si sta facendo studiare a caso e quando lo studente studia a caso non ha un metodo di studio consolidato se lo volete potete rivolgere anche a me o guardare i miei video gratuiti che così è meglio che cosa fa l'unica soluzione che trova quella di ripetere in modo meccanico cioè di leggo ripeto 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 leggo ripeto 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 riscrivo eccetera lo studio mnemonico puro che è assurdo bisogna imparare a usare strumenti di comprensione lettura efficace parole chiave schematizzazione rielaborazione tutte queste cose qua lo studio non è un continuare a sbattere la testa sul libro sette volte finché non me lo ricordo quello non è studiare quello è fare la mosca contro il vetro lo studio è porsi degli obiettivi usare la capacità critica evidenziare le parole chiave fare gli schemi qui bartoletti proprio lo dice benissimo dice le strategie di studio generativo che implicano una riformulazione degli argomenti in modo creativo quindi pensate a quando voi costruite un vostro schema o la vostra rielaborando le informazioni in modo creativo in modo personale soprattutto quindi dice e qui lancia una piccola frase che io dico da sempre che la scuola insegna le nozioni ma non insegna come come apprendere ad apprendere bisognerebbe insegnare il metodo di studio e va bene quinto stratagemma nel diciamo socializzare la propria ansia parlandone troppo cioè ne parlo con tutti e questo cioè acquisce la possibilità di sentirsi in difficoltà di sentirsi inadeguati bla 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 lo studio scrive bartoletti è un fatto privato anche nella difficoltà quindi parlarne con qualcuno può essere utile in certi casi ma fanno una bandiera dei propri problemi con lo studio non è un'ottima idea anche perché si cercano poi magari delle figure dei salvatori ed ecco che arriva il guru del web che gente che mi scrive che vorrebbe essere salvata non esistono i salvatori sul web come non esistono i guru i problemi psicologici si risolvono internamente con l'aiuto magari di un professionista eccetera bellissimo e dopodiché la propria percezione di incapacità porta alla profezia che si autorealizza che si autovera cioè se io sono convinto di essere un idiota e di non riuscirci senza volere metterò in atto tutta una serie di metodologie di strategie che mi porteranno ad avere ragione cioè dimostrare che sì effettivamente sono proprio un idiota in realtà magari non ero un idiota semplicemente sto facendo delle cose sbagliate sesto stratagemma che meraviglia il sapere dell'ultima ora la maratona notturna rimando 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 poi mi viene l'angoscia e passo la notte sui libri il giorno prima notte prima degli esami va bene lo cita proprio anche lui insomma la canzone di venditti lo studio cioè si commenta da solo se voi pensate che potete studiare un esame la notte prima degli esami senza dormire siete degli illusi e state andando incontro al burrone e basta settimo stratagemma la fuga l'evitamento cioè scappo non ci penso non ne parlo non faccio l'esame lo rimando alla sessione prossima che così sono più preparato da stavolta no perché c'è un po' quel mal di pancia che bla bla e quindi rimando non mi presento eccetera eccetera scrive François scusami vi leggo qua sotto che è meglio pensi che in generale sia un buon punto di partenza per quanto riguarda l'organizzazione dello studio cercare di spense riassunti e confrontare queste due fonti con il libro per crearne una quarta sintetica per quanto possibile ma utile però ad esempio per quanto riguarda in matematica generale tra lui teoremi e dimostrazioni più che studiarle a memoria ok allora torno a una domanda di metodo e quindi mi permetto di rispondere dunque sicuramente creare schemi è un momento fondamentale dello studio la rielaborazione è obbligatoria non potete prescindere dalla rielaborazione quindi fare schemi va benissimo ottenere gli schemi da un confronto tra le dispense riassunte e il libro può essere una buona idea il mio approccio generalmente è quella di prendere tutto il materiale dell'esame che ci serve studiarlo elaborando le parole chiave eccetera eccetera e poi costruire lo schema è sicuramente utile anche in matematica anche per quei teoremi e per quelle dimostrazioni che poi devi imparare a memoria attenzione non è che le tecniche di memoria o la memoria in generale non sia utile nello studio certo che è utile quello che si sta dicendo non è che non dovete imparare a memoria è che dovete imparare a memoria dopo aver compreso non prima quindi tu ti fai lo schema ti fai gli esercizi capisci il teorema fai quello che devi fare e poi mandi a memoria quello che resta quello a cui non arrivi tramite ragionamento allora lì puoi usarti la tua tecnica di memoria e funziona quindi questa è l'idea stratagema finale l'ignoranza come soluzione cioè l'ultima cosa che potete fare per fallire completamente nel vostro studio è convincerevi che alla fine voi non siete fatti per studiare non ha senso non fatelo non studiate ottavo stratagema rinunciate agli studi definitivamente e via così fallite di sicuro lo stratagema bonus il nono è copiare come soluzione che sappiamo anche noi che non funziona tra l'altro nel mondo della tecnologia diventa sempre più facile copiare e va bene scrive Matteo io ho sempre trovato utilissimi gruppi di studio subito dopo uno scamming personale assolutamente sì lo studio di gruppo spesso non è detto che sia possibile perché a volte uno non ha un gruppo di studio o bla 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 o ha degli amici cazzoni che non studiano eccetera ma in generale io consiglio sempre la prima fase dello studio figurati François la prima fase dello studio di farla da soli la fase in cui si analizza il testo si legge in modo efficace si trovano le parole chiave si costruisce lo schema andrebbe fatta da soli la fase di applicazione quindi l'effetto testing il testare quello che si è fatto con i quiz eccetera il ripasso la simulazione d'esame eccetera fatta in gruppo è utilissima e meravigliosa soprattutto se il gruppo è serio poi qui si permette una paginetta Bartoletti sul tema del doping e quindi sulle i neuro enhancer i farmaci le sostanze derivate dalle anfetamine che potenziano lo studio irritano il provigil eccetera oppure anche soltanto l'abuso di caffeina di nicotina e spiega come purtroppo abbiano tutti degli effetti collaterali e che diventino in realtà una dipendenza naturalmente quindi ecco per riassumere fate a meno di drogarvi che non è proprio il massimo per risolvere i problemi dello studio benissimo poi Bartoletti parla un po' di tutti i problemi relativi invece al ruolo della famiglia e degli insegnanti soprattutto negli studenti di scuole medie o delle scuole superiori all'inizio io questa parte non ve la racconto perché classifica tutti i tipi di genitore il genitore è troppo permissivo il genitore è troppo controllante eccetera eccetera e quindi quella parte lì ve la lascio insomma una cosa solo vi dico perché mi ci sono riconosciuto e ho capito che forse a volte era un errore spesso c'è l'aiuto parla di quello che viene chiamato l'aiuto critico perfezionista che è troppo soffocante cioè l'idea di aiutarti ma anche contemporaneamente criticarti e dire sei bravo però non stai attento cioè fare un feedback positivo e uno negativo uno continua all'altro che a volte può essere pressante l'ho visto per esempio aiutando ragazzini del liceo io a volte tendo a cercare di spronarli però a volte non lo faccio nel modo corretto quindi questo libro mi ha dato uno spunto per capire in che cosa magari anche migliorare come insegnante soprattutto uno a uno e va bene oh arriviamo a un certo punto ai 13 stratagemmi dello studente strategico e qui finalmente arriviamo al succo cioè come si fa dopo aver visto quali sono i tipi di blocco tipici dello studente e quali sono le nove strategie che potete adattare per peggiorare il vostro studio il più possibile quindi abbiamo affrontato il problema dal punto di vista assurdo diciamo adesso vi da veramente dei consigli naturalmente ancora doverosa parentesi si tratta di consigli divulgativi non è che voi potete sentire una live fatta da me e improvvisamente i vostri problemi psicologici spariscono se fossimo così io sarei il mago o telma invece sono Alessandro De Concini e sono un divulgatore un insegnante niente di che quindi questa strategia vi possono dare degli spunti dei suggerimenti ma ricordatevi sempre che dagli specialisti si va meglio quindi evviva gli psicologi bene il primo stratagemma lo studio paradossale questo è è programmato questo è un'idea di come dire per ribaltare quegli studenti che studiano sempre ma poi alla fine si bloccano e studiano male l'idea è praticamente e quindi è particolarmente adatta scrive per quegli studenti che compiono sforzi tormentosi e inutili per concentrati nello studio quelli che si torturano che si legano alla sedia quelli che stanno in aula studio 27 ore al giorno ecco l'idea è avete una porzione di tempo veramente piccola al giorno per poter studiare tipo 15, 30 o 45 minuti in quei 15, 30 o 45 minuti dovete studiare o stare comunque davanti al libro scegliete voi ma la cosa interessante è che per tutto il resto della giornata però è proibito studiare questo nel corso del tempo per alcune settimane questa strategia psicologica messa in atto dallo psicologo fa sì che lo studente come dire cambi la propria prospettiva e capisca che il tempo va ottimizzato e che la soluzione non è sempre studiare all'infinito ma è ottimizzare il tempo che si ha e quindi dice spesso succede che dopo un po' lo studente chiede tempo in più perché in quella mezz'ora è riuscito davvero a concentrarsi ma poi era finita e doveva smettere di studiare e pian pianino dice lo psicologo gli concede gradualmente un po' di minuti in più eccetera e quindi l'altro opposto l'opposto è l'idea di programmare lo studio questa è una cosa di cui io sono un grande fautore e il Bartoletti consiglia di dire programmatevi pianificatevi lo studio nel caso in cui siate degli studenti matti e disperatissimi tipo Leopardi tre ore al mattino tre ore al pomeriggio molto pianificate il master plan come io dico sempre e e basta e per tutto il tempo al di fuori che questo non dovete studiare ecco benissimo scrive Bartoletti e sono molto d'accordo con lui ovviamente grazie al cavolo nel senso l'obiettivo è creare una leggera percezione di scarsità temporale bisogna avere dei limiti stabiliti e ottimizzare il tempo che si ha a disposizione non si può 20% di batteria sono verso lo scarico ma tra poco finiamo eccetera poi c'è la tecnica del come peggiorare l'abbiamo detto prima cioè il consiglio di far ragionare allo studente tutti i giorni scrivere su un taccuino quali sono le strategie che potrebbero peggiorare la sua capacità di studiare e poi tutti i giorni va a vedere se le ha messe in atto oppure no questo crea consapevolezza e nel corso del tempo insomma ci si programma a non fare certe cose che peggiorano allenarsi all'imperfezione è il terzo stratagem e cioè fare degli errori volontari anche questa è una strategia molto interessante spesso lavora questa strategia di cui parla Bartoletti al contrario cioè va a ribaltare le situazioni alle rispetto alla scarsità personale ok beh Loris penso che tu tu debba 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 finire il messaggio quindi fallimento apposta per capire come funziona il fallimento eccetera l'esercizio di caco scrittura questo è bellissimo per i tesisti io mi sono mi sono bloccato con la tesi tantissimo l'idea è quello di scrivere apposta male in modo da come dire sbloccarsi e non usare come scusa il perfezionismo ecco puoi dire due parole sul principio di Parkinson ne ho fatto un video interessante il principio di Parkinson funziona così è una legge semiseria che dice che insomma se hai a disposizione un mese di tempo per fare la tesi ci metterai un mese se ne hai a disposizione due settimane ci metterai due settimane cioè si tende ad espandere la durata dei compiti che si svolgono per il tempo a disposizione quindi più si ha tempo se io so che devo studiare dieci ore al giorno studierò dieci ore al giorno se so che ne ho tre cercherò di fare il massimo con tre questo è il concetto quindi l'idea è non lasciate non andate a studiare diciamo all'infinito ma cercate di accorpare le cose vabbè poi parla di eccolo qui uno degli strumenti è quello di apprendere un sistema di studio funzionale e quindi sintesi organizzazione concettuale memorizzazione parole chiave schematizzazione mappe mentali mappe concettuali tutto il metodo questo sicuramente aiuta lo studente in difficoltà è ovvio perché anche sul piano psicologico perché gli da una sicurezza e perché gli da rimuove quella anarchia metodologica di cui parla di cui parla proprio il Bartoletti che porta poi allo stile mnemonico se non so come studiare alla fine leggo e ripeto se so usare delle strategie corrette invece la cosa migliora alternare tra l'altro tra complessità e semplicità ricordatevi sempre che semplice sintetico non significa superficiale e che fare uno schema non vuol dire banalizzare se lo fai nel modo giusto vabbè poi spostare l'attenzione dalla memoria alla comprensione che bello che qualcuno lo dica e invece nel mondo dell'apprendimento efficace tu senti veramente la gente che si concentra solo sul palazzo della memoria sulle memorizzazioni che sono bellissime tecniche va bene ma prioritaria è la capacità di comprensione ristrutturazione associazioni personalizzare eccetera smettiamola di cercare di tutti i costi di intensificare la memoria la memoria va benissimo va ma intensifichiamo invece la capacità di capire e di rielaborare e di fare il nostro di usare uno sforzo di riprogrammazione ecco poi cosa dice vediamo ah si la peggiore fantasia d'esame questa è una tecnica che uso da sempre e che funziona molto bene l'idea è nata nasce questa questa strategia worst fantasy nasce con questo Viktor Frankl di cui non ho ancora letto niente ma dopo aver naturalmente uno psicologo di cui andrò ad approfondire perché sembra saperla lunga l'idea è intenzione paradossale cioè l'idea è cerchiamo di prendere uno stimolo ansioso ansiogeno che noi abbiamo e produciamolo volontariamente cioè sforziamoci di evocare nella nostra mente quella situazione che ci mette in difficoltà continuando a sforzarsi prima o dopo ci accorgeremo che facciamo sempre più fatica più ci proviamo meno ci riusciamo e per di più se continuiamo a evocare gli scenari peggiori in assoluto paradossalmente esageriamo naturalmente e quelle situazioni che noi tendiamo a immaginare non si verificheranno mai cioè il professore che ti umilia davanti alla classe obbligandoti a tirarti giù i pantaloni non si verificherà questa cosa qui per cui esagerare queste queste sensazioni cercare di evocare a comando più possibile l'ansia per abituarsi ad essa per ridimensionarla per nel corso del tempo ridurre l'effetto che ha su di noi deve durare parecchio questa cosa almeno due settimane di esercizio ogni giorno eccetera è un esercizio di visualizzazione funziona molto bene loris tu come la vedi quando studiavo mi davo delle scadenze stupidamente vicine ai miei risultati erano l'80% assolutamente sì allora bisogna trovare l'equilibrio se ti dai delle scadenze troppo irrealistiche poi fallisci ed è frustrante la cosa giusta è trovare il giusto mezzo cioè deve essere una scadenza che sia stimolante cioè non deve essere una roba facile se tu per scrivere la tesi normalmente ci metti per scrivere non so 100 pagine dico una cosa a caso ci metti un mese ok un obiettivo stimolante è lo faccio in 3 settimane un obiettivo assurdo è lo faccio in 5 giorni perché? perché in 5 giorni non ci riuscirai dovresti scrivere 20 pagine al giorno non succederà quindi l'obiettivo giusto è un obiettivo che ti stimola che sia difficile che sia un po' più sfidante del normale ma che sia anche sensato però e non frustrante o assurdo ecco e vabbè poi vabbè dichiarare se il problema è la vergogna dice bisogna accettare che esiste la possibilità di essere agitati e perché no immaginare di poterlo dire al professore se sei agitato in una maniera incredibile questo inficia la tua preparazione perché no potresti pensare di poter liberamente dire quello che ti sta succedendo al professore poi molto spesso dici non c'è neanche bisogno di farlo perché già la possibilità di farlo fa sì che noi siamo più tranquilli questa è un'altra strategia molto interessante di cui parla poi parla del procedere a macchia di leopardo che è una cosa molto interessante e cioè l'idea è se dovete scrivere qualche cosa dovete preparare un esame eccetera e non ci riuscite partite a caso o a passo di gambero cioè all'indietro dagli ultimi capitoli dall'ultima pagina alla prima nello scrivere una tesi ma anche nello studiare oppure andate a macchia di leopardo cioè senza sequenzialità a caso e dice la scrittura si trasforma in una sorta di ricostruzione archeologica di un mosaico una cosa molto interessante io questo l'ho applicato tantissimo con la tesi e ha funzionato benissimo ho scritto prima l'introduzione poi ho scritto il capitolo 3 poi e per me ha funzionato molto molto bene l'idea è il compito consiste nello scrivere le cose che ci vengono in mente quando ci vengono in mente senza rimandare quindi non procrastinando ok e via così naturalmente poi consiglia di smetterla di fare il doping e quindi di drogarvi se vi drogate poi c'è tutta una parte meravigliosa che vi risparmio sui genitori e infine il libro si conclude le ultime 70-80 pagine del libro sono storie bellissime storie che non mi non vi spoiler perché dovete leggerle che sono sostanzialmente dei racconti veri magari rimaneggiati non lo so di archetipi di situazioni degli studenti ed è molto una bella lettura ci si riconosce in queste storie si impara qualche cosa e quindi andate assolutamente a leggerle quindi se vi siete collegati ora compratevi lo studente strategico di Alessandro Bartoletti perché avete molto da imparare infine l'ultima cosa che lui affronta e che mi ha fatto molto piacere vedere è proprio il paradigma classico dello studio cioè le tradizioni dello studio per esempio la ripetizione mnemonica che però dà per scontate delle capacità che lo studente non ha si dà per scontato che lo studente sappia comprendere sappia fare sappia schematizzare sappia e invece non è vero va insegnato spiega come la comprensione sia un processo creativo e soprattutto attivo e questa è una parola chiave che io uso sempre scoprire e inventare la realtà piuttosto che fotografarla cioè dovete smettere di essere dei contenitori di informazione e diventare dei produttori di informazione questa è una cosa che dico sempre nei miei corsi questo è molto importante quanto più scrive Bartoletti lo studio è costruito e quanto più è costruttivo cosa vuol dire costruito vuol dire associazioni personali mappe cognitive mappe mentali schemi rimandi collegamenti produzione questa è una cosa che mi ha a cui non avevo mai pensato un gioco linguistico che però mi ha veramente colpito e glielo ruberò si deve passare dal prendere appunti che è l'idea passiva al produrre appunti attiva quindi ottimo questa cosa qui tecniche di analisi di sintesi associazioni eccetera cita anche Novak naturalmente che è il padre delle mappe concettuali Busan che è il padre delle mappe mentali eccetera e via così vediamo cosa scrive François e dunque e invece se io dicessi ci metto un mese per scrivere 100 pagine dico mi prendo due mesi per scrivere di meno ogni giorno ma con costanza di un ragionamento di questo tipo applicato agli esami alla preparazione ok cioè tu dici aumento il tempo per andare più con calma si occhio però che se aumenti il tempo il rischio è la procrastinazione perché tu dici vabbè ho tanto tempo oggi non lo faccio bisogna trovare un giusto equilibrio non si può stringere troppi tempi non si può allungarli troppo la cosa migliore te lo ripeto è trovare il giusto bilanciamento tra un obiettivo che ci sfida che ci motiva anche in qualche modo che sia difficile ma che sia realizzabile e sensato quindi scrivere di meno ogni giorno con costanza bella idea però quando il tempo a disposizione è troppo la legge di Parkinson è inesorabile cioè tendiamo a ampliarla quindi trova il giusto bilanciamento François secondo me infine giustamente si parla proprio di memorizzazione e quindi Bartoletti dice sì imparare la memoria è un'ottima cosa bisogna sapere come si fa e quindi fa tutto una giusta giusta elogio delle tecniche di memoria cosa che su cui io sono d'accordo parla del fatto di Giordano Bruno per esempio che non è esperto di memorizzazione ma parla di l'arte della memoria insomma che è in giro da sempre e parla di come le mnemotecniche possono anche essere chiamate un esercizio di creatività perché è un gioco di associazioni quindi funzionano molto bene quindi ecco che niente ripetizione ma le mnemotecniche sono una parte interessante sebbene le mnemotecniche siano una parte piccola del metodo di studio sono una parte molto importante perché perché ci tolgono dai piedi quell'aspetto ripetitivo e pesante dello studio mnemonico risolvono quindi risolvono un problema piccolo ma pervasivo cioè quello del devo imparare la formula mia la devo rileggere 20 volte e invece no quindi è molto interessante poi parla anche del lavorare sulla capacità di esposizione e quindi sulle capacità teatrali e scrive molto interessante la capacità di trasmettere ciò che si sa è anche un indicatore di quanto si è compreso e qui si ritorna a quello di cui parlavo varie volte cioè la cosiddetta tecnica di Feynman cioè l'idea di spiegare qualcosa a qualcuno per consolidare i propri ricordi ottimo infine chiude parlando di un effetto che è alla base di tutte le teorie di apprendimento più efficaci che è il cosiddetto testing il testing effect quindi l'essere continuamente sotto esame quiz domande simulazioni eccetera che ci mettano alla prova quindi non ripassiamo in maniera passiva di nuovo rileggendo il libro ma mettendoci alla prova facendo domande risposte eccetera eccetera quindi questi sono i consigli nel libro di Alessandro Bartoletti c'è tutto quello di cui vi ho sommariamente parlato e molto 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 di più quindi un libro veramente fantastico secondo me di divulgazione che non è ve lo ripeto come scrive Bartoletti un libro di autoaiuto quindi non è che dovete pensare che questo sia uno di quei libri all'americana che voi lo leggete e avete capito tutto della vita e state meglio con voi stessi non è così è un libro che vi dà degli spunti per capire qualche cosa è un libro di divulgazione rivolto a tutti quelli che hanno interesse in queste cose e anche gli specialisti del settore perché no il consiglio finale quindi è se avete delle difficoltà più sono queste difficoltà gravose e più dovete rivolgervi naturalmente è uno specialista e sicuramente Alessandro Bartoletti lo è quindi andatevi a vedere il suo lavoro naturalmente anche quello di Giorgio Nardone sicuramente quindi un bellissimo bellissimo escorso su tutti i problemi tutti i problemi psicologici degli studenti un libro veramente interessante interessante anche per chi è un genitore o per chi come me è un insegnante ed è interessato all'altro aspetto quindi si affronta il tema dell'apprendimento da tutti e tre i punti di vista dello studente dell'insegnante e di chi sta intorno quindi la famiglia un'ottima un'ottima cosa naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate se avete comprato se avete intenzione di comprarlo cosa pensate dei problemi psicologici degli studenti eccetera eccetera io spero che vi abbia interessato questo tipo di live spero che tra l'altro la nuova grafica con il mio logo la mia firma eccetera vi piaccia fatemi sapere un feedback anche su quello che sto cercando di migliorare la qualità naturalmente dei contenuti se vi è piaciuta questa live se vi piacciono i miei video se vi piace quello che faccio mettete un mi piace condividete il video parlatene con qualcuno mettetemi le stelline momento marchetta solito noi ci vediamo naturalmente la settimana prossima al martedì come al solito alle 15.30 per la nostra live domani per il prossimo video come al solito con nuovi argomenti quindi oggi è finita la gamification week quindi ieri cominciamo a parlare di cose normali andatevi a vedere magari il video che ho fatto ieri che era un po' uno sfogo personale in cui era un po' incazzato su appunto quelli che vendono fuffa invece di vendere metodi di apprendimento seri Bartoletti non è certo uno che vende fuffa quindi noi ci vediamo martedì spero che vi sia piaciuto mettete un bel mi piace e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti